L'albergo Sato Cuore si trova su un promontorio che domina il lago di Garda pochi minuti dal porto e dalla città di Salò. Qui puoi trovare camere con servizi privati, sala da pranzo con aria condizionata, un salone con beni polifunzionale, una cappella privata, un parco di 25.000 metri quadri. Aspettiamo tutti coloro che amano la pace, verde, l'atmosfera speciale per rilassanti vacanze alla scoperta del lago di Garda.